Ci sono novità a proposito dell'ex convento delle Canossiane in centro storico a Clusone. Spieghiamo appunto quali sono queste novità e il perché di questa operazione. Ieri durante tutte le celebrazioni delle messe ho appunto annunciato questa, chiamiamola novità, anche se novità proprio del tutto non è, in quanto si sapeva che l'orientamento della parrocchia era quello di vendere quello che è l'ex complesso del convento delle Canossiane. E quindi questa operazione è stata conclusa nei giorni scorsi. Credo sia abbastanza normale che all'interno di una vita parrocchiale gli aspetti anche economici debbano essere portati a conoscenza della gente in maniera molto chiara, molto diretta, ed è quello che ho ritenuto opportuno fare in modo che non ci siano né sottintesi né fraintendimenti. L'operazione è stata pensata da alcuni mesi ed è maturata poi nel corso del tempo, ovviamente, attraverso colloqui, incontri con la società che poi ha acquisito l'immobile e che ha portato a risultato che, a nostro parere, parere dei consigli, ma credo anche dalle prime reazioni delle persone, molto positivo in quanto così solleva, per così dire, la parrocchia da una situazione che poteva essere considerata non del tutto attinente alle finalità pastorali. Certo, non è che così, c'è stato sempre una certa titubanza, nel senso quasi un rammarico nel vendere una proprietà, tuttavia, è stato quasi un obbligo proprio per il fatto che questa proprietà ormai non risponde più, e forse non è mai neanche stata così, non risponde più a quei requisiti pastorali che per me sono fondamentali, per noi sono fondamentali perché una struttura possa essere considerata di proprietà della parrocchia. L'ex Convento delle Canossiane è uno dei tre comparti del programma integrato di intervento per la nuova scuola dell'infanzia Clara Ammafei. Cosa cambierà adesso? Nel piano di realizzazione della nuova scuola materna entra a pieno titolo ora la società Adriana che, con l'altro soggetto attuatore, dovrà portare avanti il progetto per la realizzazione della nuova scuola. La parrocchia, ovviamente, continua la sua presenza all'interno del Consiglio d'Amministrazione della scuola dell'infanzia, cercando di fare l'interesse e il bene della scuola stessa. Vorrei così sottolineare il fatto che all'interno della parrocchia trova spazio anche il settore economico, il settore amministrativo, tuttavia tutto rientra in un'ottica che è quella della pastorale, nel senso che la missione di una parrocchia, anche se questo a volte lo si ritiene ovvio, scontato, è proprio quello di continuare l'annuncio del Vangelo. E quindi tutto questo, anche se non fa molto notizia, è quello che è il cammino quotidiano di ogni comunità. Poi ci sono a volte appunto avvenimenti come questi che magari fanno notizie, eccetera, però credo che sia importante sottolineare come ogni giorno le persone vivano veramente la loro fede, il loro essere cristiani nella quotidianità e la parrocchia deve aiutare e sostenere soprattutto questo.